buongiorno e bentornati nel mio canale devora magica oggi facciamo due haul molto piccoli però interessanti uno risparmio casa e poi vi faccio vedere che cosa ho ordinato da amazon mancano ancora alcune cose che arriveranno nei prossimi giorni però intanto vi faccio vedere il pacco che è arrivato oggi iniziamo subito con risparmio casa io ho risparmio casa più o meno a 6 7 chilometri da casa è un iper risparmio casa quindi è bello grande bello fornito adesso vi faccio vedere tutto allora come prima cosa ho preso nuovo applicatore grey marco delle macchie per l'erba il fango e quelle belle robine lì ogni volta che alexander va in cortile a giocare vi devo dire come tornano a casa i pantaloni questo aiuta parecchio dopodiché preso da alexander piccola decorazione natalizia non so dove vorrà mettersela però l'abbiamo presa a ovviamente da risparmio a casa stanno già allestendo giochi regali varie cose natalizie anche set per la tavola ci sono tante robine carine sempre per il folletto di 9 anni mamma ho finito il burro cacao ciao piglietti il burro cacao questo è con acido ialuronico vitamina a ed è ed è della linea della leocrema senza glutine senza lattosio quindi anche tutti quelli che sono intolleranti non è il nostro caso ovviamente però tutti quelli che sono intolleranti al glutine al lattosio questo prodotto lo possono utilizzare ed è una cosa molto interessante non so se lo vedete c'è un po di riflesso ok ci siamo dopodiché andare a risparmio casa con mio figlio diciamo che la prossima volta vado da sola allora nella scuola di alexander il lunedì il giovedì c'è tra virgolette l'obbligo della merenda a base di frutta siccome l'unica frutta che mangia un po obbligato però mangia è la banana quindi lui ha la sua scatoletta dove di solito gli metto dentro la merenda del succo e in quella scatoletta nei giorni di lunedì e giovedì di solito gli metto la banana porta banana non vado più a risparmio casa con lui vabbè quindi questo è il porta banana per portarsi la merenda a scuola il lunedì e il giovedì andiamo avanti borraccia termica nuova ripacqua con moschettone presa sempre a risparmio casa questa sarà la protagonista di una piccola modifica che vi farò vedere nel prossimo video e poi cos'altro c'è risparmio casa si la sabbietta del gatto che stava finendo e poi l'ho lasciato giù in macchina perché non mi serve qui non l'ho portato su in casa però ho preso un un fustone da 5 litri di antigelo per la macchina e poi ho preso una confezione di pasta lavamani al limone quando faccio qualche lavoretto un po particolare e quello però pesava troppo portarla su e allora c'era la sabbietta legata lo portare su l'ho lasciata in macchina la recupererò in un altro momento ok dopodiché sempre per risparmio casa ho preso queste lucine a led che però hanno dietro l'attacco non so se riuscite a vederlo ne apro una così ve le faccio vedere sono vinci 20 luci a led con attacco usb e anche queste saranno protagoniste vedete che l'attacco vi faccio vedere com'è è proprio una usb quindi queste si possono usare per decorare la casa nel periodo natalizio ma non solo dunque risparmio casa tutto finito ok no manca questa ho preso questa confezione che è l'insalatiera con un set di quattro pezzi dove uno dei quattro pezzi è uno scolapasta non so se lo vedete perché mi servivano hanno questo silicone qua sotto che è antiscivolo che può essere utile quando fai una torta quando fai dei biscotti quando stai impastando dentro una ciotola è fondamentale che questa non scivoli via ogni 30 secondi e questa è una cosa interessante benissimo per quanto risparmio guarda risparmio casa abbiamo finito adesso vi faccio vedere cosa è arrivato da amazon che è solo una parte dell'ordine che ho fatto questi servono per la colla vinilica prevalentemente per i lavoretti che faccio io ed è molto interessante perché come potete vedere è proprio a sfillo quasi quindi si riesce ad arrivare a proprio mettere proprio la goccina senza esagerare dove non bisogna esagerare e questa è una confezione da 10 se non ricordo male altra borraccia termica sempre per la stessa motivazione dell'altra me l'hanno richiesta quindi verrà personalizzata poi vi farò vedere il risultato allora adesso vi racconto una cosa divertente avevo lasciato un paio di mele dentro in un cestino in cucina e non le ho lasciate mesi le ho lasciate un paio di giorni durante il quale purtroppo non ho avuto occasione di consumarle bene queste mele hanno proliferato e mi sono ritrovata con dei muscerini quelli della frutta fastidiosissimi che possono capitare a tutti in casa il 99% li ho già sterminati nel senso li ho fatti fuori io senza nessun problema però per essere sicura di evitare che continuassero a moltiplicarsi a parte che non c'è nulla su cui moltiplicarsi perché ho tolto le mele, pulito, disinfettato, tirato via tutto c'erano solo quelle due mele però per il resto per evitare ulteriori problemi ho preso questa che sono delle trappole per muscerini voi dite ma come sei esagerata per due muscerini mi dispiace ma a me danno molto fastidio e mi dà senso di sporco avere un muscerino che mi gira per casa anche se è solo uno mi dà fastidio quindi per cui ho preso queste trappole apposta per muscerini contengono una praticamente c'è una parte adesiva che è la struttura che è questa cosa qua che sembra frutta e dentro contiene una vaschettina un liquido tipo quello che usate per la mazza zanzare che però è un attrattivo per questi muscerini che si andranno ad attaccare internamente sulla parte appiccicosa e buonanotte e abbiamo risolto la storia dei muscerini per due mele lasciateli due giorni attenzione quindi di solito io la frutta quando la compro la lavo, la lascio in ammollo con acqua e aceto e dite ma che esagerata che sei però no è così che si fa e vabbè pazienza per un paio di giorni mi sono ritrovata con i muscerini adesso il 90% sono già morti perché tra la pulizia ho buttato via le due mele anche se erano sane paceame e questo sono sicura che è finita la storia dei muscerini a casa mia benissimo adesso vi faccio vedere quello che è l'ordine di amazon allora questo dei muscerini era nell'ordine di amazon questo era nell'ordine di amazon che sono i miei cosi per la colla dopodiché scuola di cucito qua vi spiegherò perché ho comprato questo libro le basi segreti per tagliare, cucire e confezionare a un capo perfetto a mano o a macchina per chi non lo sapesse ho acquistato da poco sul sito della Neki sia la Cricut Maker sia la N85 che è una macchina da cucire quindi per cui sto facendo esperimenti a breve news e penso che questo libro possa essere utile qualche nozione ce l'ho sicuramente ma non avendo mai fatto un vero e proprio corso di cucito mi serviva comunque un libro a cui fare riferimento questo l'ho visto su amazon tra l'altro non è costato una follia ve lo posso garantire ci darò un'occhiata e poi vi faccio sapere vi faccio anche la recensione su questo ricordatevelo se me lo dimentico io ok ultimi due prodotti uno di amazon e uno di risparmio casa che però sono prodotti elettronici per questo li ho lasciati per ultimi allora una è questa che cos'è? ve lo spiego io questo è classico rialzo dove appoggiare il monitor del computer che però ha la possibilità di appoggiare una specie di cassettino qua puoi appoggiare lo smartphone e ovviamente viene collegato alla corrente tramite usb e qui ci sono quattro quattro prese usb alla quale potete attaccare non so una power bank piuttosto che un hard disk esterno qualsiasi cosa e questo è molto utile l'ho visto e ho aspettato un po' perché ero indecisa ho sentito un paio di recensioni e mi hanno detto tutti che è ottimo quindi io tra poco l'ho fatta montare e poi vi faccio sapere questo arriva da Amazon invece da risparmio casa era in offerta l'ho presa aspettate che vi dico il prezzo ok allora questo è un termoventilatore allora io ho uno scaldasalviette grandissimo in bagno quindi il bagno comunque è un ambiente abbastanza caldo però quando faccio la doccia al bambino mio figlio ha sempre freddo non si capisce ho 20 gradi in bagno ma lui ha freddo allora la mamma ha preso un termoventilatore di quelli piccini che lo appoggio sul mobile del bagno e lo faccio andare quando fondamentalmente lui esce dalla doccia mentre lo sto asciugando in modo che non senta freddo povera gioia questo arriva da risparmio casa ok adesso vi racconto una storiella brevissima ok l'ordine di Amazon doveva arrivare ieri io abito in un paesino di 5.000 anime in provincia di Lecco e il paesino è molto piccolo come potete capire io abito su una rotonda che è praticamente il centro del paese e sotto di me io sono al secondo piano a piano terra c'è il bar del paese non è l'unico bar del paese però sicuramente è quello più frequentato e è praticamente questo bar tabacchi fa anche da appunto raccolta diciamo pacchi di Amazon io approfitto di questa cosa perché se sono fuori per lavoro o sono andata a fare la spesa o per qualsiasi motivazione sei fuori casa per evitare di perdere il pacco di Amazon tra l'altro i ragazzi che lavorano nel bar sono fantastici quindi nulla da dire i pacchi li faccio arrivare da loro mi arriva la mail di notifica il tuo pacco è disponibile vattelo a ritirare va bene allora doveva arrivare ieri in tutta la giornata fino alle 3.30-4 in giornata ti consegniamo il pacco bim 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 a una certa mi dicono mi mandano una mail in cui dispiace del ritardo tutto quanto bim 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 vabbè può succedere imprevisto ci mancherebbe altro e poi alle 18.43 e quella mail non la cancellerò mai mi arriva una mail da Amazon in cui mi dice che il vettore chi doveva consegnare non ha potuto consegnare perché il centro di raccolta era chiuso allora i ragazzi del bar prima delle 7.30-8 non chiudono mai voi capite bene che alle 18.43 il bar era aperto questo è il il corriere su cui si appoggiano le poste italiane non faccio nomi avete già capito di chi sto parlando con questo vettore ogni volta c'è sempre da tribulare grazie a Dio oggi è arrivato quindi è arrivato il giorno dopo in realtà neanche tanto tardi però quando ho dovuto ordinare la famosa macchina da cucire della Necchi la N85 non riuscivano a consegnarla nonostante avessi lasciato il numero di telefono e avessi lato l'indirizzo ovvio mi è compilato in tutte le sue forme per la consegna voglio dire se paghi una cosa la vuoi vedere arrivare a casa beh io ho tribulato quasi tre settimane per ricevere questo pacco sempre dallo stesso vettore di cui si serve i posti italiani e loro asserivano che la motivazione era indirizzo errato ma saprò ben dove abito una rotonda su cui ci sono quattro numeri civici uno due tre quattro adesso io non vi dico dove sono io però voglio dire uno due tre quattro se sei capace di contare fino a quattro il civico lo trovi hai il numero di telefono hai tutto bene ragazzi ho dovuto tribulare con il centro assistenza Necchi poverini che loro non c'entravano niente anzi sono stati gentilissimi e alla fine grazie al loro aiuto sono riuscita ad andarla a ritirare al deposito centrale di questo corriere che si trova a Brivio in provincia di Lecco io abito in provincia di Lecco ci ho messo tre settimane per ricevere una cosa che dieci giorni arriva alla peggiore proprio ecco tanto per intendersi allora non ti telefonano si inventano che il punto di raccolta è chiuso quando è aperto stamattina poi sono passata giù al bar è il bar dove vado a bere il caffè è il bar dove compro sigaretta del mio marito è il bar è il bar sotto casa ragazzi tutti abbiamo un bar sotto casa sappiamo no? ecco e ho fatto vedere la mail ai ragazzi e si sono fatti una risata nel senso che alle 18.43 è impossibile non eravamo chiusi questo è un problema io ho telefonato il numero dell'assistenza di posti italiane per segnalare questo problema mi hanno detto di fare reclamo faccio scusi ma io sto parlando al telefono con lei non basta no deve andare in posta compilare un modulo tutto quanto insomma ditelo chiaro e tondo che non volete raccogliere i reclami sapete già che avete un corriere meschino per carità di dio poi le brave persone le cattive persone stanno in tutti i posti non è solo questo però io ho notato che come ho detto al telefono alla collega delle poste italiane gli ho detto guardi non lo so quale sia la differenza tra il corriere che utilizzate voi e il corriere che di solito utilizza Amazon ma Amazon ti viene a consegnare sul cucuzzolo della montagna in piena bufera di neve adesso ho esagerato lo so però era per far capire che non è che bisogna arrivare a questi estremi ma se tu non consigli un pacco soltanto perché è su una rotonda e sono le 6 e mezza di sera e voglia di andartene a casa io lo posso anche capire ma non è così che si lavora insomma un po' di correttezza soprattutto per i ragazzi del bar non tanto per me perché alla peggiore a me Amazon mi rimborsa non succede nulla però dire che un punto di raccolta Amazon è chiuso quando non è vero non è fargli buona pubblicità e non è correttezza lavorativa dite guarda non ce la faccio sono stanco inventati un'altra scusa ma non dare la colpa agli altri di quello che tu non hai voglia di fare e bisognerebbe essere sempre corretti perché a questo mondo non è così che si dovrebbe ragionare però mi rendo conto che non siamo tutti uguali scusate il pippone io ringrazio i ragazzi del bar sotto casa bar tabacchi che sono sempre molto disponibili molto gentili e sono consapevoli che insomma questo questo corriere è un po' particolare e ne prendiamo atto e se come me avete avuto problemi con i corrieri che arrivano da poste italiane vi invito caldamente a fare reclamo lo so c'è da perderci del tempo lo so però se no saremo sempre a litigare ad arrabbiarci per queste consegne mancate farlocche non c'ho voglia non c'ho tempo vabbè il lavoro dovrebbe essere anche correttezza io vi auguro buona giornata spero di non avervi annoiato fino a questo momento e prossimamente vi faccio vedere che cosa combinerò con questa con questa con le lucine con questo rimanete sintonizzati se avete qualche domanda scrivete pure qui sotto mi trovate su youtube mi trovate su facebook mi trovate su instagram e da poco tempo anche su ttok vi auguro un mare di buone cose e una buonissima giornata ciao a presto da debora magica e mi raccomando tenete i docchi i curi ciao ciao